ciao a tutti signori signori sono claudio claudio televisione claudio games allora adesso fare una cosa particolare perché oggi voglio festeggiare i miei 300 iscritti e voglio ringraziarvi con cuore e vabbè vi ringrazio mille 300 iscritti e poi non solo questo ho anche 10 iscritti sul mio secondo canale claudio games e quindi vorrei fare questo speciale proprio vorrei mostrarvi una top ten dei delle persone che ci sono iscritti al mio canale che hanno più iscritti di me quindi analizziamo cosa hanno in servo per noi e questa è la mia top ten dei dei canali che si sono iscritti al mio canale ma che hanno più iscritti di me quindi let's go number 10 adriano indelicato e questa persona ha 36 iscritti questo canale diciamo particolare un po tanti canali un po video particolari ma andiamo a vedere i video che è meglio gioco di numeri gioco di colori gioco di forme e poi ha caricato anche due sigle della pimpa però quelle finali non quelle iniziali vabbè poi ha registrato un po cartunito e poi altre cose vabbè basta number nine olga fetodova e questa persona ha 53 iscritti allora questa persona non ha video ma ha delle tre playlist e poi dopo ha un po di canali diciamo tantissimi vabbè gli sd tv e poi qualcosa telekine nivia russia burger king e incluso anche me vabbè non lo vedete perché ha tanti iscritti lei ah e poi c'è anche wheat media è una compagnia che volete sapere un segreto è una compagnia che ha fatto the money drop in russia non è uno scherzo è la verità ma ha un sacco dei canali oppure si è iscritta anche a maceo orso pure sul canale youtube questa è una bella cosa ah eccomi eccomi qua sono trovo sono sotto ah sono di fianco a fin flair media e crepiena sopra media switzerland mago mater sotto a culmese e quasi quasi in diagonale sts va bene per assia 1 va bene e niente alcuni sono anche canali televisivi canali youtube televisivi ma va bene credo va bene va bene passiamo alla prossima number eight mirko mazzoni b e ha 62 iscritti ok adesso passiamo a questo canale che ha 62 iscritti ovviamente allora vediamo i video vabbè qua un pelino di videogiochi un po sequenze diciamo la maggior parte è un po di sequenze poi ragazzi avete notato che nel titolo twitch place pokemon canzoni giuste però canzoni vabbè avete notato che 12 febbraio 2001 alle 2 15 di notte ma siamo pazzi e siamo pazzi vabbè poi andiamo vediamo le playlist vabbè twitch place sequenze tv registrati va bene vediamo i canali vabbè io toby poi conosciuti youtuber fiat regno unito explain zap mondimotta e poi mare gioco collegio e poi telegiornale 1 e poi va bene va bene lasciamo stare ah e poi anche apple support che bello poi canale di pokemon va bene oh tipo bam è lo stesso canale con cui mi sono iscritto anch'io ed è anche mio amico anche e poi be curious che sapete che adesso non continuerà più per questo canale per sempre ma vabbè vabbè poi fia italia ford italia va bene e poi c'è questo canale che si chiama rai 6 e poi vabbè non c'è niente altro da dire e vabbè va bene questo era il canale e adesso andiamo alla prossima number seven mark joseph der man e questa a 91 iscritti allora è un bambino non so se è proprio inglese o americano australiano ma vabbè allora pubblica diciamo cose un po casuali un po gameplay tipico point e diciamo alcune puntate mr bean peppa pig e vabbè e vabbè poi vediamo le playlist amm vabbè e poi notate che sulla playlist alvate c'è mare kart 8 deluxe mare kart double dash super mare 64 mare kart ds ho sbagliato tasto ma vediamo i canali e a va bene oh ma guardate tre canali su chi vuole essere milionario magari vabbè a fare i tuoi e vabbè star di linea uno che merita nel club del dei pupazzi del milionario va bene un sacco di canali del milionario ed eccomi qua sono proprio qua la persona sopra a tutoriali di l'isola full episode page adam zone top marks ripper russian tv che tra l'altro è pure un altro canale del milionario e oltre a questo canale pubblica anche che ne sa di telegiornale qualcosa ma vabbè la maggior parte ho premuto un altro pulsante sbagliato ma vabbè la maggior tante diciamo un sacco di canali di milionario un sacco di game show e basta e poi c'è anche il canale di simba toys va bene e va bene andiamo avanti number six johnny television e questa ne ha 121 iscritti vabbè un canale russo in cui pubblica qualcosa di televisione e basta e poi playlist di televisione e poi e abbiamo altra gente bella di che non voglio mostrare adesso ma avete capito che è un canale di sequenze televisive russe e va bene comunque tanto comunque adesso andiamo avanti number five droran it che sarebbe youtube e questa ne ha 141 iscritti vabbè diciamo un canale in cui i suoi video popolari probabilmente sono la gualfa champions league vabbè calcio tv cosa posso dirvi vabbè vediamo le playlist tv mosaic non so va bene e va bene abbiamo altra gente bella altra gente bella si 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 e poi non so cosa aspettarmi e andiamo avanti che forse è meglio number four brandon holmes e ne ha 153 iscritti vabbè qua dove indovinato un po anche video del milionario e vediamo le playlist solo una vabbè chi vuole essere milionario i suoni i canali vabbè affari tuoi ed eccomi qua proprio di là sotto a tre canali del milionario direttamente va bene proprio si è già finito di già vabbè solo questi canali vabbè andiamo avanti siamo arrivati al podio la top 3 che adesso vedrete delle belle perché sono i canali che mi ha che hanno più iscritti di me adesso beh uno vabbè poi vedrete intanto pronti let's go number three medaglia di bronzo a jacobo jacchi e ne ha 182 iscritti è un canale diciamo che pubblicano svariate solo cinque ma vediamo un po che vuole che studia parliamo del faro della vittoria hai pubblicato due volte la sigla di dolore dell'esplodatrice e poi vabbè due su due su cinque se non consideriamo l'altro clone due su cinque sono sigle e due su cinque e sono altri tipi di video con eccetto di sigle ma vediamo le playlist niente vediamo i canali vabbè un zacco dei canali che diciamo va bene e che dire si è aperto una pagina vabbè questa è la medaglia di bronzo per i miei tanti iscritti che mi ha iscritto ma lui ne ha tanti gli iscritti number two è kiss non super seba se bastiano missina il suo vero nome uno che io conosco tanto bene e ne ha 937 iscritti vabbè fa le live su fifa fa video speciali e fa anche puntate un po diciamo tipo andate di torno il milionario e in più anche pubblica il milionario vabbè 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 la carriera allenatore e poi ma quanti nei fatti quanti nei fatti diciamo di live vabbè quante playlist ne ha fatti è incredibile e voi ne ha salvati un sacco dei playlist vabbè vabbè alcune di questi sono amici giuventini poi altri sono milionari poi playstation altri youtuber riconositissimi ma non si vede perché vabbè avete capito e vabbè ormai lo sapete già number one con 988 iscritti sul suo canale che ha più iscritti di me il titolo iscritti canale con più iscritti che sono diciamo vabbè avete capito che si sono iscritti al mio canale che hanno più iscritti di me esatto il santo graal dei canali che si sono iscritti al mio canale ma che hanno più iscritti di me che ha 988 iscritti ksenia bluestar vabbè è un canale youtube diciamo russo o ucraino va bene vediamo i video vabbè un po' particolari ehm si 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 un po' diciamo che dire vediamo le playlist mmm vabbè un po' particolari e poi cosa c'è scritto qua barbinam barbinam che cos'è vabbè non so se è proprio russo ok ma beh che dire ehm parlo in inglese un attimo e miss bluestar if you are watching this video that means you are the number one eh subscriber to my channel but you have subscribers more than me ehm vabbè vedo so vabbè vabbè comunque sta per raggiungere un po' i i no i mille iscritti va bene beh che dire mmm vabbè vabbè allora vabbè allora vi saluto e magari adesso poi saluterò ok ragazzi questa è la mia top ten delle persone che si sono iscritte al mio canale ma che hanno più iscritti o meno iscritti e beh che dire abbiamo finito il video e spero che vabbè se vi piaciuto lasciate like se vi raccontate cosa ne pensate ehm qua e poi condividete il video e iscritte al canale e attivate la campanellina per cui namaste ale se vi raccontate 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 se vi raccontate